Non ci credo né ora né mai, né ora né mai, non può essere Oh mio dio me l'ha dato gratis Buongiorno ragazzi sono Robby e benvenuti in questo video di Roblox Oggi siamo su Adopt Me perchè faremo un altro trucco Visto che i due trucchi precedenti vi sono piaciuti tantissimo Oggi faremo un trucco che a dir la verità è molto famoso E so che tanti di voi già lo conoscono Però oggi lo andremo a provare insieme per chi ovviamente non lo conosce ancora Oggi praticamente ci fingeremo dei poveri e chiederemo dei pet Così cercheremo di avere dei pet gratis senza fare nulla E se siamo fortunati anche dei pet leggendari Quindi senza ulteriori dubbio dobbiamo comunque cambiare il nostro aspetto Che comunque non sembriamo per niente delle persone che hanno bisogno così tanto dei pet Quindi vediamo chi è generoso di cuore e regalerà i suoi pet così per bontà Quindi cambiamoci subito Ok questa è la mia versione triste e povero di me stesso Certo non ci assomigliamo per niente però se faccio così magari Sì forse un pochettino sì Ma prima di continuare vi ricordo Anzi non mi devo ricordare Vi annuncio che c'è un altro giveaway Quindi stasera ci vediamo alle 19 Cosa dovete fare per ricevere questa pozione fly Lasciare il like Adesso commentare e condividere il video E iscrivervi se siete nuovi E di stasera alle 19 su twitch avrete la possibilità di vincere questa pozione Quindi mi raccomando vi aspetto stasera E chi risponderà bene alle domande vincere a questa pozione Ok siamo pronti Abbiamo l'aspetto giusto Dobbiamo solo andare al centro Sederci ed aspettare comunque che le persone vengono Magari a farci un po' di carità Perché è quello che si parla Ovviamente restituirò i pet a chi me li dà subito Perché ovviamente non voglio rubarli Perché io non ne ho bisogno Quindi andiamo Ok mentre stavo andando nella città Mi sono ricordata che effettivamente devo cambiarmi il nome Perché comunque non posso presentarmi così col mio nome sopra Mi devo mettere un nome adatto a questa situazione Che è pet please Ok perfetto Così faccio capire che ho bisogno di pet E la gente è proprio messo sopra la mia testa Cosa mi basta fare? In teoria da quel che so Adesso testeremo se questo trucco funziona Mi basterà sedermi a terra qui E niente Vedere se la gente mi comincia a dare dei pet Quindi action Sit E mi metto qui a Chiedere pet Anto mi ha fatto una richiesta Sta funzionando? Sta funzionando? In teoria non posso sapere che sono io perché ho cambiato nome Però se me lo dà Vuol dire che è il tuo What the fuck? Non ci credo Mi stanno cominciando a dare pet Ragazzi stanno cominciando a chiedervi tutti di tradare È fantastica questa cosa Vediamo che cosa mi dà chicken gear 05 Vediamo Un coniglietto Vabbè dai Grazie Un uovo? No vabbè Assurdo Davvero mi sta dando queste cose gratis Non ci credo né ora e né mai Non è vero che Gratis posso ricevere queste cose Semplicemente scrivendo pet please Sopra la mia testa E fingendomi povera Non ci credo Non ci credo Ok Sta succedendo tutto di botto Soprattutto intorno a me E effettivamente nella chat Nessuno ha capito che sono io Meno male Meno male Vediamo Non è proprio Proprio possibile Cioè non è sì No Non può darmi una cosa del genere gratis Non ci credo Ora lo toglie Non può essere Oh mio dio Me l'ha data Gratis Non ci posso credere Ragazzi dovete lasciare subito like E andare a provare questo trucco Al mio tre ragazzi Uno Due Tre Hai lasciato like Perché se non lo lasci questa cosa non accadrà di sicuro a te Oh mio dio Non ci credo Ok ci sono altre persone che mi chiedono il trade Comunque penso che sono tutte persone che hanno questi vetti in più e vogliono sentirsi caritevoli con noi E' fantastico questa cosa Questo dimostra che la gente è davvero davvero tanto tanto buona su Roblox Oh mio dio Oh mio dio E' lui che me sta dando Un uovo Un cane Una scimmia Una macchina Non ci credo Dammelo Ma in che senso A quanto pare mi stanno anche dando bastoncini Vabbè grazie Comunque è sempre un buon gesto Ok non me l'hanno dato Un'altra persona che mi chiede di tradere questo Vediamo Vediamo cosa vuole darmi Una limonata Grazie Grazie mille un ricordo Ah ok infatti c'è sembrava un po' strano Cioè io ci ho sperato Per un attimo Ci ho sperato Comunque niente Abbiamo ricevuto parecchi pet E anche delle uova da schiudere che dopo schiuderemo E niente Oh Pinky Ma sa che sono io Oh Ciao Ciao Che succede Non posso risponderti perché sennò ti vede il mio nome Dimmi pure Che succede qua Ti servono dei pet Eh sì 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 Rosa Mi servono dei pet Oddio Davvero Non legge il mio nome adesso Ti prego Ovviamente Rosa è una bravissima persona Cosa mi aspettavo Una mucca Che figo È una bravissima persona Cosa mi aspettavo Della persona del genere Appena ho visto qualcuno Che era in difficoltà Gli ha dato dei pet Oh Carino carino Grazie Grazie Anche Marty ora mi sta mandando la richiesta di tridare Non so se mi darà mai qualcosa Oh sì Dei giocattolini Dai Dai Grande Spero che riceverai altro Non si è accorta che sono io Ciao Pinky No Wow Esperimento riuscito Abbiamo tre uova ad aprire Quindi non aspettiamo altro E vediamo che cosa esce Ok Dobbiamo far schiudere questo uovo Che abbiamo effettivamente ricevuto Nel trading Nel frattempo Ho risposto di dei pet Quelli proprio pesanti Alla chi me è dato Li sono andati a cercare È stato un po' difficile Però se li trovate in giro Voi possono confermare Che glielo eri dati E oh mio dio Vediamo cosa esce da qui Papapapapapapa Che schifo Che schifo Proviamo con il prossimo Non chiedo tanto Non chiedo tanto Sono un pet Leggendario Nulla di che Che scatole Non è giusto Per questo video questo è tutto mi raccomando Ci vediamo stasera alle 19 E dopo questo video vedete il tutorial Su come abbonarvi per avere la mia richiesta d'amicizia Su Twitch E poter giocare con me su Roblox Quindi ci vediamo stasera alle 19 E mi raccomando lasciami un piace Per vincere la pozione Ciao Se sei arrivato fino a qui è perché vuoi abbonarti al mio canale Twitch Vuoi diventare mio amico Ti basterà cercare sull'app store Twitch E scaricare l'applicazione Iscriversi oppure accedere Ovviamente queste cose potete farle anche dal pc Ma ve l'ho mosso sul telefono Una volta dopo essere su Twitch Cerca RobiPolar vai su informazioni Clicca abbonati e spunterai nella pagina Di abbonamenti dove potrai fare Due tipologie di abbonamenti Quello con i soldi di 4,99 E quello con Amazon Prime Completamente gratis Che potete usare solo una volta al mese per un canale Basta cliccare lì e fare prova a Prime E collegare il vostro account di Amazon Prime a Twitch Una volta abbonato durante la live Scrivi il punto esclamativo Roblox E clicca su un link che porta al nostro Discord Ti raccomando collega Twitch al tuo Discord E poi cerca la stanza Abbonati Roblox Robi Dove ci sarà il link dove una volta cliccato Dovete inserire il vostro nick E dopo la live aggiungerò il vostro nome Semplice no? Allora ti aspetto domani alle 19 Mi raccomando Gi packed 2 8 11 15 17